Secondo le statistiche di Youtube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Un momento. Hola? Che co... che co... Tu Maximus! Maximus! Se sta... pe... this is my season bro I'm the king of the cars I didn't know the cars could do 200 damage I'm gonna be a demon with the fist chat where's the victory umbrella hey I won where's my victory umbrella oh this song's fire it's on fire bro oh we got a game perfect timing not forever hey oh shit I thought I called you did you call me we called at the same time oh how you been though good 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 we're fucking back let's do this shit click sir let's get this shit let's win this I bet where you been landing oh I've been landing maf your eye he's where in the north 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 he's dead not 30 he's dead it's double it's double it's double it's double it's double let's do it all the way it's supposed to be it's 1v2 Friuli la motione Ma che ora le domicili c'est... Noi, non più Non più Noi? uno di questi... VIKTORI ROYAL NIC A30 Non c'è nulla come si è stato troppo per NIC A30 Non c'è nulla come si è stato troppo Oh mio Dio è finito Come... come ho a trovare una duo? Io sono troppo per NIC A30 Il grande squadro W in il chat Allora bro, ti sono troppo Ti sono troppo Ti sono troppo In den letzten 48 Stunden Ist extremst viel passiert Und Gott sei Dank Bin ich in so einem State Wo ich sagen kann Boah, das geht mir jetzt nicht ganz so nah Wie jetzt vielleicht anderen Menschen Die noch nicht irgendwie seit neun Jahren streamen Und ähm Da einfach ein bisschen wissen Dass man sagt, ey, sowas verfliegt meistens Ähm, gerade wenn sich einfach Leute Auf irgendwelche random Gerüchte stürzen Und da muss ich euch wirklich sagen In den letzten 48 Stunden hat mich eine Sache am meisten gestört Und zwar Diese absolute Geilheit Von der Von sehr, sehr vielen verschiedenen Communities Und das sind nicht die Communities Oder das ist nicht meine Community auf gar keinen Fall Das sind die Communities, die einfach zur Zeit Den Braten riechen Bei jeder Person da draußen Die in der Öffentlichkeit ist Und sagen Die muss gecancelt werden Die muss gecancelt werden Die muss gecancelt werden Und das ist so ein bisschen Trash TV mäßig Und ich finde Das sind wir nicht als Community Das sind Pretty much did nothing Cuz I didn't know how to play the game anyways You know Oh yeah chat You guys need to help me with like I don't know if I'll play stretch res But Wait, Rachel Chat, did you see that? I saw a guy in this bush I'm not even joking There's guy sitting like right there Yo Yo This is actually good I can test it This isn't normal This is me getting in the car Oh my god Oh my god No, no, no la guardo Perché è un progetto di Gianmarco Io non sono Gianmarco Quindi secondo me sarebbe irrispettoso Prendermi meriti Per una cosa che è sua Perchè Non è mia What is this bro? Created by meme wars? Zone wars But with a low taper fade? Come catch Ninja Zero delay Imagine him with one though For real Dude It's like Dude, this is like What I would This is what Kesa would look like If he was like Kirby And he ate me bro For sure, right? BANNED Hello, can you hear me? Hi Hello You watching the stream? What's that? You watching the stream? What's that? I am now I just I just started following you Thank you You're welcome I Knew who you were After I got into your car And saw Chica Yeah You know I appreciate you following me Um Yeah, I Know who you are Cause I watch I play, you know Part time I'm a dentist So I just kinda Play for fun Um And I saw you were pretty upset So I just wanted to Apologize Listen You Okay Okay I wasn't I wasn't really upset Don't apologize Spielspaß für die ganze Familie Fortnite Battle Royale Oh Can you get down? Nice dude Oh My god Killed another Wait I'm lucky Crazy Wait 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 I'm lucky crazy Wait That was That was That was That was But What The The If The Five The Have We That That A lie To Yep I Know That Ok, Chat, un po' real talk per la situazione e quello che ci sono stati ultimi due giorni di ultimi due giorni. Deve dire che in ultimi 48 giorni è successo molto accaduto. E, grazie, sono in un stato in un stato, in cui posso dire che questo mi non è così vicino come altre persone che non sono stati ancora neun anni. un stream o deixa eu pedir alguém para clipar e deixar aí que vocês vão tá aqui no forte night tem um clicar aqui na lupa onde está aqui bero vai aparecer esse modo aqui torneio settings tá ligado depois esse modo vai clicar nele favoritar e reiniciar o jogo assim que tu reiniciar o jogo o modo vai estar habilitado para você só se selecionar o modo e jogar fácil não tem uns pontos ali tem uns itens os itens o 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